L'incendio nell'area ex Saddam di sabato scorso a Castiglion Fiorentino è stato oggetto di una riflessione da parte del gruppo di città al centro che fa parte della minoranza Palazzo San Michele. Non è nuovo il gruppo che vede in Rossano Gallorini il suo leader a valutazioni critiche ma il tema ha toccato, supera i condotati della pura contrapposizione e riporta in primo piano la questione ambientale che per anni ha caratterizzato il confronto politico a Castiglion Fiorentino. Le fiamme hanno interessato una vera e propria oasi naturalistica che è tutelata dall'Unione Europea vista la presenza di tante specie di uccelli e di altri animali che vi gravitavano. Dopo il fuoco di sabato molti animali sono morti e il danno inferto assume proporzioni che ancora devono essere ben valutate. Città al centro ricorda che in quella zona c'è la protezione speciale. A suo tempo era stata presentata una mozione che aveva lo scopo di allestire un tavolo conoscitivo su tutta l'area. L'incendio di sabato, dice la nota, ripropone l'attenzione per la salvaguardia di un'area che deve essere bonificata, che ancora non conosce il passaggio di proprietà. E' opportuno, fanno capire gli autori del documento, che la questione venga ripresa e che la maggioranza che governa Castiglion Fiorentino si ponga a questo problema che non è di secondaria importanza. Dopo il grande pericolo del decennio scorso, conclude la nota, poco è stato fatto. E' opportuno ridiscutere tutto senza perdere ulteriore tempo.